Rendere Ficarra una scuola di pensiere, una piattaforma per la cultura contemporanea internazionale grazie all'elaborazione costante di idee e progetti. E' lo scopo delle summer school ideate nell'ambito del progetto di residenze d'artista Ficarra Contemporary Divan, partito 20 giorni fa nel comune di Nebrodi e che ha già calamitato l'attenzione del mondo artistico italiano ed europeo. Non solo di grandi centri dell'arte e della cultura, non solo di grandi musei, grandi fondazioni possano fare un lavoro importante ma anche io sono convinto che bisogna un po' decentralizzare questa attività. E' molto importante che l'arte non resta solo un fortezza dell'elitismo intellettuale, grande istituzione eccetera, ma anche cerca il diretto rapporto con il luogo, la città, una comuna, una comunità intellettuale che ha anche impegno per l'arte. Allora è un nuovo dialogo. La prossima settimana partirà la prima delle due summer school programmate a cui prenderanno parte giovani artisti tedeschi, olandesi, portogresi, francesi ed italiani sotto il coordinamento di Francesco Lucifora e Vincenzo Estremo.